salve a tutti e benvenuti sul mio canale io sono in aria e questo nuovo video true crime come sempre voglio ringraziare tutti gli iscritti e chi spende del tempo per visualizzare i miei video grazie di cuori se siete interessati a questo genere di video vi consiglio di iscrivervi e attivare la campanellina delle notifiche e se vi va potete anche seguirmi su instagram prima di iniziare a raccontarvi la vicenda di oggi voglio avvisarvi che in questo video partenerò di crimi legati a minori e animali per cui se non ve la sentite di andare avanti non importa ci vedremo in un prossimo video magari meno cruento per il caso di oggi ci spostiamo in pennsylvania e i protagonisti della nostra storia sono due fratellini connor snyder che aveva otto anni all'epoca dei fatti e brinley snyder che invece aveva quattro anni sono nati entrambi ad allentown in pennsylvania la loro madre elisa snyder che aveva 32 anni all'epoca dei fatti e del padre non ci sono notizie cioè non si sa chi sia o meglio io non ho trovato informazioni ma ne cerco sempre all'infinito quindi presumo che abbiano voluto tenere privato il nome del padre brinley frequentava la scuola materna e viene descritta come una bambina molto dolce adorava travestirsi come le principesse disney in particolare amava il film frozen connor frequentava la terza elementare gli piacevano molto i videogiochi e viene descritto come un bambino felice e tranquillo amava la scienza in particolare tutto ciò che riguardava rocce e minerali connor era un fratellino molto protettivo nei confronti di brinley faceva di tutto per prendersi cura di lei e i due fratelli erano molto molto legati connor aveva un leggero ritardo nel parlare e aveva anche qualche problema nella funzione motoria ma era seguito da un medico e tra l'altro non era un grosso problema per lui e nemmeno per i suoi compagni di classe nel senso che non veniva preso in giro o altro ecco era tutto abbastanza tranquillo questi due bambini sembravano apparentemente felici nessuno ha mai notato nulla di strano o di preoccupante nel loro comportamento a parte la loro madre lisa infatti nelle settimane precedenti a settembre 2019 avrebbe confidato ad alcune sue amiche che connor fosse molto triste in quel periodo sosteneva che suo figlio fosse vittima di bullismo a scuola e a causa del suo peso perché era in sovrappeso i bambini lo prendevano in giro e a suo dire quando connor tornava a casa da scuola era arrabbiato e a volte diventava aggressivo gli atti di bullismo che riceveva quotidianamente avevano iniziato a influenzare negativamente la sua autostima al punto di non voler più mangiare nel tentativo appunto di perdere peso inoltre pare che connor avesse iniziato anche a minacciare di farsi del male quindi lisa sembrava molto preoccupata per lui e ha continuato a parlarne con le sue amiche fino al fatidico giorno in cui avverrà la tragedia fino al 23 settembre 2019 quella giornata è iniziata come sempre connor e brinley si sono recati a scuola hanno trascorso quella mattinata in modo molto tranquillo hanno parlato e hanno giocato con i loro compagni di classe e quando sono tornati a casa delle telecamere hanno ripreso connor che scendeva dall'autobus sembrava molto felice era di ottimo umore e secondo la versione di lisa poco dopo il suo arrivo a casa il bambino le chiese se lui e sua sorella brinley potessero andare nel seminterrato per costruire una fortezza ora è una cosa che fanno molti bambini io mi ricordo che la facevo anch'io quando ero piccola comunque una cosa piuttosto normale ecco lisa ha dato il suo permesso a connor di fare questa fortezza e connor gli ha anche chiesto se poteva portare le sedie della sala da pranzo proprio per costruire questa fortezza ma ha fatto anche una richiesta piuttosto strana voleva anche il guinzaglio del loro cane perché gli serviva anche quello nel frattempo lisa ha fatto il bucato e poi è uscita con il cane di famiglia per circa dieci minuti e quando è tornata a casa è scesa nel seminterrato per vedere che cosa stessero facendo i suoi figli voleva anche chiedere a loro cosa volessero per cena e quando è scesa ha visto una scena terrificante e onestamente non so proprio come descriverla per turbarvi il meno possibile e insomma lisa ha trovato i suoi due figli appesi al guinzaglio in pratica il guinzaglio era appeso alla trave di supporto del seminterrato e ciascuna estremità del guinzaglio era avvolta attorno al collo dei bambini sembravano entrambi non respirare non muoversi io faccio sempre veramente tanta fatica a raccontare queste cose però ci tengo a raccontare questa questa vicenda perché è terribile ma deve essere messa alla luce ecco deve deve venire alla luce per quel poco che posso fare io con il mio canale comunque questi due bambini sembravano non respirare e non muoversi lisa ha detto che ha provato a cercare di sollevarli ma non riusciva e a un certo punto ha avuto un attacco di panico e questo attacco di panico le ha impedito di fare qualsiasi cosa per salvare i suoi figli da quella situazione e effettivamente io non so se voi abbiate mai provato un attacco di panico e mi auguro di no mi auguro che voi che state guardando questo video non abbiate mai subito un attacco di panico ma in certi casi può veramente pietrificare la persona ti sembra di morire praticamente se ti sembra che praticamente stai morendo da un momento all'altro quindi l'unica cosa che è riuscita a fare questa donna è chiamare il 911 e da lì non è più tornata nel seminterrato quindi lei ha visto i due figli in quelle condizioni e non è più tornata nel seminterrato ok alle 4 e 41 di pomeriggio i vigili del fuoco sono arrivati a casa di lisa proprio per soccorrere i bambini lisa precedentemente aveva detto loro che li avrebbe aspettati fuori ma una volta arrivati lì la porta era chiusa tant'è che i soccorritori hanno dovuto bussare e sono stati accolti da lisa che tra l'altro era al telefono a quel punto lisa sembrava nervosa ma non stava piangendo e non ha nemmeno detto loro dove fossero i suoi figli pensate che i pompieri hanno addirittura dovuto cercarli da soli una volta trovati hanno iniziato a rianimarli e i bambini erano ancora vivi nisa nel frattempo aveva informato anche gli amici e parenti che sono andati di corsa a casa sua sia connor che brindley erano ancora vivi ma privi di sensi quindi li hanno portati d'urgenza all'ospedale più vicino durante il tragitto entrambi hanno subito un arresto cardiaco ed è stata necessaria la rianimazione purtroppo però quei tentativi furono vani perché il 26 settembre del 2019 entrambi i bambini sono stati dichiarati morti la polizia ovviamente ha iniziato subito a investigare elisa è apparsa subito sospetta hanno ottenuto un mandato di perquisizione e hanno preso più oggetti dalla casa questi oggetti erano il guinzaglio un telefono cellulare due ipad e un laptop i giorni successivi lisa è stata interrogata moltissime volte e la polizia come vi dicevo prima la guardava con sospetto anche perché aveva avuto un comportamento assolutamente anomalo non aveva nemmeno provato a salvare i suoi figli cioè una volta che tu riesci a reagire a un attacco di panico e stai chiamando anche i tuoi familiari amici perché non provi a salvare i tuoi figli che sono giù nel semitterrato appesi inoltre quello che diceva non aveva letteralmente senso ecco questa è la sua versione connor aveva cercato di uccidere la sorellina e di togliersi la vita perché era depresso secondo il suo racconto il bambino aveva già cercato di togliersi la vita ha affermato che connor le aveva detto più volte che voleva morire e ha spiegato agli investigatori che connor era vittima di bullismo a causa delle sue difficoltà di apprendimento e del peso disse che connor odiava andare a scuola ed era sempre arrabbiato gli investigatori gli hanno anche chiesto cosa ha fatto lei quando connor gli ha confidato che voleva farsi del male lisa ha risposto che i due si sono seduti a parlare e lei gli disse che se nel caso avesse avuto ancora il pensiero di farsi del male glielo doveva dire subito gli investigatori però non erano molto convinti di quella versione in più avevano scoperto che il guinzaglio per cani che era stato usato era di una misura molto grande era per trasportare dei cani fino a 250 kg e il loro cane pesava solo 50 kg inoltre casualmente era appena stato comprato cioè quella stessa mattina aveva comprato quel guinzaglio e quella non era l'unica cosa che la polizia ha considerato anomala durante le indagini ovviamente sono state interpellate anche altre persone le persone che erano vicine ai bambini per prima cosa è stato interrogato il dottore che aiutava connor con il suo problema di coordinazione questo medico ha detto agli investigatori che il bambino aveva un serio problema nel coordinarsi e che quei problemi gli impedivano addirittura di allacciarsi i lacci delle scarpe quindi questa mancanza di destrezza gli avrebbe sicuramente impedito di aprire il guinzaglio e di utilizzarlo per impiccarsi cioè impiccare prima sua sorella e poi lui stesso sembrava essere proprio al di là delle sue capacità e ciò è stato anche confermato da altre persone come ad esempio le sue maestre inoltre questo medico ha anche confermato che connor non era depresso per lo meno non sembrava depresso ed era proprio assurdo pensare che connor avesse ucciso sua sorella e se stesso il bambino aveva una scarsa coordinazione occhio mano io non so se in italiano si possa dire questo in questi termini perché non sono esperta in questo senso però pare che non riuscisse a coordinare l'occhio con la mano ecco noi quando ci coordiniamo usiamo anche la vista ecco non riusciva a coordinare l'occhio con la mano e non riusciva addirittura a chiudere l'indice e il pollice insieme e questo l'indice pollice sì questo qui così in questa vicenda è emerso anche un altro testimone un amico di famiglia che ha riferito che il 16 settembre aveva ricevuto un sms da lisa in cui affermava che connor voleva togliersi la vita perché quel giorno dei bambini lo stavano bullizzando ma quando questo amico è andato a prendere connor a scuola lo ha visto stare bene e rideva ed era seduto con i suoi amici e stavano anche giocando insieme non sembrava che fosse sotto la minaccia di alcuni bambini o che lo stessero ridicolizzando che lo stessero bullizzando inoltre non aveva mai parlato con nessuno di questi problemi cioè connor a parte sua madre lisa lui non ha mai detto a nessuno di essere bullizzato ai altri membri della famiglia o ai suoi amichetti gli investigatori hanno interrogato sia le maestre che i compagni di classe di connor che confermavano che il bambino non era vittima di bullismo a scuola e non aveva espresso mai dei pensieri suicidi in conclusione non c'era alcuna prova di ciò che stava dicendo lisa anzi la posizione per lei si stava aggravando sempre di più non c'era assolutamente niente che supportava quella versione dopo pochi giorni lisa è diventata ufficialmente la principale sospettata di quello che era successo come vi ho detto prima brilli e connor sono morti in realtà non c'era più attività cerebrale quindi in pratica sono stati staccati dalle macchine che li stavano mantenendo in vita e sono morti a 14 minuti di distanza l'uno dall'altro non si sa chi abbia dato il permesso di staccare la spina ma sicuramente non lisa a quel punto è stata eseguita l'autopsia che confermava che brinley e connor erano morti per asfissia e che non era stata trovata traccia di sostanze nei loro corpi nel frattempo lisa era impegnata a creare pagine su facebook in memoria dei suoi figli postando frasi drammatiche sul proprio account scriveva di come fosse adolorata e di come i suoi figli le mancassero scriveva che non faceva altro che piangere e che avrebbe voluto dare qualsiasi cosa per riabbracciare i suoi figli di nuovo ma l'unica sospettata comunque continuava ad essere lei gli investigatori stavano continuando a esaminare i dispositivi che avevano preso da casa di lisa hanno scoperto che lisa era in possesso di un samsung galaxy note 9 e che durante la prequisizione non sono riusciti a trovare questo questo smartphone lisa disse loro di averlo perso lo stesso giorno in cui è successa la tragedia guarda caso ha perso lo smartphone durante cioè proprio nel giorno in cui connor e brindley hanno perso la vita quindi dopo averlo perso ha eliminato l'account associato a quel telefono gli investigatori hanno subito sospettato che quel telefono fosse stato distrutto perché probabilmente all'interno aveva qualcosa di compromettente e avevano ragione perché un conoscente di lisa ha raccontato qualcosa di interessante alla polizia nell'ottobre del 2019 ricevette un messaggio che gli era stato inviato proprio da lisa lisa gli scrisse che aveva bisogno di bere due drink molto forti si è quindi recata a casa di questo conoscente e ha espresso la sua preoccupazione per il fatto che gli investigatori erano stati più volte a casa sua in cerca di questo cellulare lisa sembrava essere molto preoccupata per ciò che gli investigatori avrebbero probabilmente trovato la polizia comunque aveva altro materiale su cui lavorare e gli agenti avevano anche iniziato esaminare le ricerche dei suoi dispositivi e sono rimasti scioccati da ciò che hanno trovato tra il 17 e il 23 settembre lisa aveva cercato frasi inquietanti come ad esempio quanto tempo ci vuole per morire in un'auto con monossido di carbonio un'auto ibrida produce monossido di carbonio poi ha cercato ce l'avevo quasi fatta che è un programma true crime che racconta di persone che stavano sfuggendo alla cattura dopo aver commesso un crimine ma che poi sono stati beccati ma la ricerca più inquietante era come faccio per impiccarmi e non solo il 22 settembre lisa avrebbe visitato un sito web che descrive un modo efficace per impiccare una persona utilizzando proprio un guinzaglio per cani ma purtroppo l'orrore non finisce qui gli investigatori hanno trovato dei messaggi su facebook che sinceramente anche in questo caso non so come descriverli da questi messaggi è stato scoperto che lisa ok quello che sto per dire è molto disturbante lisa aveva dei rapporti sessuali con il cane inoltre c'erano anche delle foto che mostravano questo questi rapporti foto che la ritraevano in molteplici atti sessuali compiuti sul povero cane c'erano alcune foto e video che inviava a questo contatto di facebook di cui l'identità non è stata rivelata inviava queste foto e questi video disgustosi con dei messaggi di testo molto espliciti io vi dico solo quello un po meno brutale diciamo così in un messaggio c'era scritto stava andando bene fino a quando non mi ha morso ok l'unica buona notizia che c'è in questa faccenda è che lisa ha dato via questo cane subito dopo la morte dei figli tra parentesi il cane al momento sta bene ed è in una famiglia che lo ama gli investigatori però dovevano cercare questo cane perché dovevano confrontare il guinzaglio con il peso e quando lo hanno trovato hanno potuto constatare che pesava soli 50 kg mentre il guinzaglio era per cani con un peso maggiore come vi avevo detto prima gli investigatori inoltre hanno scoperto anche che nel 2014 gli assistenti sociali i nostri cari amici assistenti sociali no vabbè adesso non è che tutti gli assistenti sociali lavorano così ecco ci saranno sicuramente degli assistenti sociali molto bravi e quindi non possiamo generalizzare in questo caso comunque gli assistenti sociali di quella zona precedentemente avevano tolto i bambini alisa non ho capito il motivo non c'è scritto cioè non si trova da nessuna parte si sa però che nel febbraio 2015 le sono stati riaffidati non ci sono i dettagli sul motivo per cui gli avevano tolto connor e brindley il 2 dicembre del 2019 a seguito di un'indagine più approfondita lisa è stata arrestata ed è stata accusata di omicidio di primo grado omicidio di terzo grado manomissione delle prove e crudeltà sugli animali lisa sembrava essere completamente impassibile alla prospettiva di un'eventuale pena di morte perché in quel paese come sapete c'è la pena di morte durante il processo sono state molte le persone vicino ai bambini che hanno parlato e un particolare testimone un amico di lisa ha detto che la donna gli avrebbe detto in una conversazione che non le importava niente dei suoi figli questo ovviamente prima della loro morte la difesa ovviamente ha puntato tutto sull'infermità mentale questa cosa avrebbe potuto escludere la pena di morte e pare che lisa avesse gravi disturbi mentali soffriva di depressione da quando aveva 16 anni l'avvocato difensore disse che al momento dei presunti omicidi lisa fosse affetta da un disturbo di personalità grave e sintomi coerenti con il disturbo da stress post-traumatico pare che lisa avesse la percezione che i suoi figli fossero emotivamente danneggiati da altre persone e questa malattia mentale ha portato alla luce un desiderio di proteggere i suoi figli quindi le ha uccisi pensando di alleviare le emozioni dolorose che stavano vivendo ora io ve lo dico apertamente io so pochissimo riguardo ai disturbi mentali so proprio le cose basilari e mi piacerebbe tanto fare una collaborazione con una psicologa o uno psichiatra perché avrei tantissime domande da fare e sono sicura che anche voi lo trovereste interessante quindi in caso che ci sia qualcuno che possa aiutarmi a capire queste dinamiche che possa aiutarci a fare luce su queste vicende vi prego scrivetemelo nei commenti mi piacerebbe moltissimo fare un video parlando proprio di questi argomenti vorrei proprio fare chiarezza su questo anche se mi rendo conto che non è assolutamente facile il 12 febbraio 2020 lisa è stata portata dal carcere dove era in attesa di processo dopo che gli era stata negata la libertà su cauzione ed è comparsa davanti a un giudice per l'udienza preliminare il giudice ha ascoltato sette testimoni inclusi i parenti di lisa hanno tutti contraddetto le sue affermazioni il fatto che connor fosse depresso che fosse vittima di bullismo tutti hanno confermato che connor fosse un bambino felice a un certo punto hanno anche chiamato uno dei soccorritori dei bambini a testimoniare disse che lui aveva notato un comportamento anomalo in lisa non era in lacrime come ci si aspetterebbe in questi casi e lei non piangeva a differenza di uno degli agenti che invece è esploso in un pianto dopo aver visto quella terribile scena purtroppo al momento il processo è ancora in corso quello che si sa è che la difesa ovviamente vuole evitare la pena di morte a me dispiace moltissimo portare questi casi che rimangono aperti e spero proprio di avere qualche notizia in merito e magari aggiornarvi con un piccolo video e voi cosa ne pensate di questo caso io l'ho trovato davvero disgustoso e spero tanto che questi due bambini ora siano in un posto felice siano in un posto migliore di quello in cui stiamo vivendo io come sempre vi mando un grande abbraccio virtuale e ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video ciao ciao